Hanno tentato un furto all'Euronics di Piazza Cairoli armati di bombolette spray urticanti. Salvatore Trimarchi, 43 anni, e la madre, Rosaria Sobrio, 62, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dagli agenti delle volanti. I due avevano studiato un piano che prevedeva che la donna rimanesse al piano terra, pronta a coprire la fuga del figlio, mentre quest'ultimo si occupava di nascondere un hard disk portatile nello zaino. Ma all'uscita l'allarme antitaccheggio ha regolarmente suonato ed il personale di servizio è prontamente intervenuto. A questo punto i due hanno tirato fuori le bombolette spray, ne è scaturita una confusione che ha allarmato clienti e passanti. Tutto si è risolto con l'arrivo della polizia che ha arrestato madre e figlio. I dipendenti del negozio sono stati trasportati in ospedale a causa degli effetti dello spray urticante. Guariranno in tre giorni.